Il comando della Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Caltanissetta ha promosso una serie di incontri con la cittadinanza per dare informazioni e consigli su come prevenire le truffe rivolte agli anziani. I convegni sono stati realizzati in presenza di ufficiali dell'Arma e con la collaborazione delle associazioni Ollus del territorio, delle sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri e delle parrocchie. Sono stati spiegati i metodi utilizzati da Chioprona Truffa insieme ai propri complici, ma anche le forme di tutela e quindi prima di tutto il numero di emergenza 112, a cui ci si può sempre rivolgere per chiarimenti, informazioni e domande su circostanze e dubbie. Coinvolti diversi comuni della provincia nell'iniziativa, come Santa Caterina Villarmosa, Adelia, Sommatino, Sera di Falco, Resuttano e San Cataldo. Oltre che nella Chiesa Madre, l'incontro nella cittadina sancataldese si è svolto nella parrocchia di Sant'Alberto Magno.